Ciao a tutti, oggi vi voglio dare un consiglio un po' diverso su come visitare le isole delle Seiscelle. Quindi, come? Attraverso delle piccole crociere su yacht o catamarani, completamente organizzate su misura in base alle vostre esigenze. Da qui si possono quindi andare a scoprire le isole che si vogliono, anche quelle più lontane. Con dei catamarani o degli yacht che hanno magari 4 stanze, 6 stanze, tutte equipaggiate, con skipper e capitano o anche senza. Se volete maggiori informazioni andate su www.seiscellexpert.com Ciao ciao!